Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla Firenze-Mare, rallentamenti e code per traffico verso Firenze tra Prato Ovest e PIVI 11A1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze per Etola. In Cipili ricordiamo che fino alle 23 di questa sera l'uscita di Montelupo-Fiorentino è chiusa per chi proviene da Livorno per un trasporto eccezionale, deviazioni in loco. Siamo al traffico urbano di Firenze per lavori di posa e infrastrutture della telefonia fino al 29 giugno in via Mannelli, via Masaccio e strade afferenti restringimenti di carreggiata a tratti possibili disagi. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Vi ricordiamo di guidare con prudenza nel rispetto del codice della strada e dei limiti di velocità anche in ZTL e nelle zone 30. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!